L'intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie e processi in grado di elaborare grandi quantità di informazioni per restituire, sintesi o previsioni complesse e razionali. In realtà non esiste una sola definizione di intelligenza artificiale. Dire semplicemente che è intelligente tutto quello che imita la mente umana è inesatto, perché i processi sottostanti sono simili, o almeno ambiscono a esserlo, solo in alcuni casi. Il machine learning è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale. Letteralmente significa macchine che imparano. E questa è la sostanza del concetto. I software, gestiti da algoritmi, sono progettati per analizzare grandi quantità di dati. Sono la base per i due passi successivi, apprendere dalle informazioni a disposizione ed elaborare previsioni. Il machine learning fa tesoro del passato per conoscere meglio il futuro, senza sfera di cristallo ma con modelli predittivi. Il deep learning è, a sua volta, un sottoinsieme del machine learning. Significa letteralmente apprendimento profondo. A differenza di più comuni processi di machine learning, basati sull'elaborazione di dati per eseguire un compito specifico, il deep learning sviluppa modelli su più livelli, ed è quindi capace di individuare, estrarre ed elaborare dati in autonomia, senza che sia l'uomo a fornire la materia prima per funzionare. Per Big Data, come dice il nome, si intende un insieme di dati talmente grande da superare la capacità dei database tradizionali. Per estensione, il temine Big Data si riferisce anche al settore e alle tecnologie che elaborano imponenti quantità di informazioni. Cosa c'entra con l'intelligenza artificiale? I dati sono l'acqua dell'AI, senza di essi non potrebbe esistere. Un algoritmo è una procedura di calcolo, uno schema con il quale l'uomo codifica le modalità di elaborazione dei dati. Gli algoritmi rappresentano l'anima razionale dell'intelligenza artificiale. Le reti neurali sono sistemi di apprendimento che trasferiscono sulle macchine la struttura dei neuroni presenti nell'uomo. Ovviamente non c'è nulla di organico. I neuroni sono in realtà nodi di una rete che moltiplicano la capacità di elaborazione. Sono le reti neurali a rappresentare la versione dell'intelligenza artificiale più vicina a quella umana. Un chatterbot è un software sviluppato per simulare, via chat o voce, un'interazione umana. È una delle applicazioni dell'intelligenza artificiale più diffusa. Perché, attraverso la comprensione del linguaggio artificiale, consente di sostituire l'uomo in alcune circostanze. Già diverse aziende, ad esempio, usano questi software per accogliere i clienti online, senza che l'utente si accorga della differenza. I settori interessati sono potenzialmente tutti, o quasi. Perché tutti hanno bisogno di un'elaborazione razionale dei dati e di capacità predittive. L'elenco sarebbe quindi lungo. Solo per fare alcuni esempi, in finanza, gli investimenti possono essere gestiti da piattaforme digitali. Un'agricoltura più intelligente riduce gli sprechi e ottimizza i sistemi di irrigazione. Il monitoraggio e la lettura della propria casa o degli stabilimenti industriali permette a lei di ridurre i costi e suggerire soluzioni per una gestione migliore. Nel marketing, i software assegnano agli utenti una pubblicità su misura. Nel campo sanitario, più dati e AI significano prevenzione ad personam e diagnosi rapida. In quello legale significherebbe una più rapida analisi dei contratti e dei codici. E poi ci sono gli assistenti digitali, come Alexa o Siri. Si parla spesso di rischi per l'occupazione. L'intelligenza artificiale, abbinata alla robotica, può effettivamente sostituire alcune mansioni oggi eseguite dall'uomo. In alcuni casi, dove il lavoro è ripetitivo, questo passaggio di consegne sta già avvenendo. In altri l'intelligenza artificiale non sarà un sostituto ma un collaboratore dell'uomo. Sull'altro piatto della bilancia c'è la nascita di nuove professioni legate alla tecnologia artificiale. I temi legati al lavoro non sarebbero i soli rischi per l'uomo. Le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono enormi, ma diversi osservatori, tra i quali Elon Musk e Jack Ma, si sono detti molto preoccupati. Hanno invocato la necessità di regole chiare per amministrare una tecnologia altrimenti ingestibile. Non solo per una questione di occupazione, l'hai applicata alle armi, se non limitata, metterebbe a rischio l'incolumità del genere umano. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., 6B, Rudufort-Niedergrenod, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.e nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICTE nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICTE Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICTE Asset Management. PICTE non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICTE unicamente per finalità illustrative.